Stefano De Martino, l'indiscrezione inaspettata lascia il fan senza parole, la conduzione dello storico programma è diunta al capolinea Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia del possibile stop alla conduzione dello storico programma Rai Finora si poteva dire che Stefano De Martino stesse vivendo un momento tutto d'oro grazie al successo ottenuto nelle vesti di conduttore Infatti, dopo la prodo in Rai dinanzi a lui si sono aperte diverse strade, in particolare, l'eredità raccolta da Amadeus gli ha dato modo di mettersi in gioco alla conduzione di programmi ormai accreditati e apprezzatissimi dal pubblico Tuttavia, sembrerebbe che qualcosa stia per cambiare nella vita del conduttore Stefano De Martino, stop alla conduzione? L'indiscrezione fa arrabbiare i fan Con affari tuoi, Stefano De Martino ha conquistato il podio Rai Puntata dopo puntata intrattiene il pubblico da casa che lo apprezza particolarmente nelle vesti di mediatore fra il concorrente che tenta la fortuna in un gioco d'astuzia con il dottore Finora sono andate in onda 10 puntate dallo storico programma, e naturalmente si pensa già alla programmazione dei nuovi palinsesti che dal nuovo anno prenderanno il via La nuova stagione però prevede una serie di cambiamenti. Nell'intento di ridefinire la programmazione Rai, secondo quanto riportato da Tufflog sembrerebbe che una delle decisioni prese dalla società fosse quella di spostare il programma condotto da De Martino su Rai 2, stasera tutto è possibile, sulla rete Ammiraglia e darle credito e la giusta visibilità dopo il successo ottenuto sul canale secondo L'adozione da parte di Rai 1 del game show però non ha visto una concretizzazione, se sarebbe deciso, infatti, di lasciare il programma sfondo comico su un canale generalista che propone di fatti la trasmissione di programmi più leggeri Attenzione però, perché la vera rivelazione sarebbe un'altra Sempre Tufflog farebbe sapere che per quanto riguarda la conduzione del comedy show potrebbe esservi un cosiddetto cambio della guardia Stefano De Martino potrebbe condurre l'ultima edizione a partire dal 27 gennaio 2025, per poi lasciare le redini nelle mani di qualcun altro La decisione deriverebbe dall'idea di De Martino di dedicarsi ad altri progetti La notizia non è piaciuta al pubblico che ha immediatamente avuto da ridire, deve rimanere a stasera tutto è possibile fino al giorno della pensione, ha commentato uno degli utenti su X Cosa accadrà lo scopriremo in via ufficiale solo prossimamente, quando tutte le carte saranno scoperte e il destino televisivo di Stefano De Martino sarà definito